Maiko Italia è un'azienda leader nel mondo della ventilazione, con le sue marchi Elicente e Dinaire, è azienda produttrice con sede nella provincia di Brescia che dal 1970 è specializzata nella produzione di apparecchi per la ventilazione. Negli ultimi anni si è specializzata nel settore della ventilazione meccanica controllata, che è un settore con grosse crescite dato il fatto che è sempre più sentita l'esigenza della rimozione degli inquinanti negli ambienti chiusi e il contributo svolto da questi apparecchi per recuperare l'energia ed evitare sprechi che si ottengono aprendo porte e finestre. In questo senso Maiko Italia ha nel suo DNA l'esperienza per aver sviluppato un prodotto di assoluto rilievo tecnico ed estetico. REC 200 infatti è un apparecchio per il ricambio continuativo dell'aria e il recupero di calore con un'efficienza fino al 90%. Questo apparecchio ha dalla sua un sistema per l'installazione molto semplice e intuitivo che consente anche all'installatore o all'utilizzatore di poter effettuare le importanti attività di manutenzione dei filtri piuttosto che di riparazione nella malaugurata ipotesi che si ponesse qualche problema. Un apparecchio di questo genere oggi non è disponibile sul mercato in termini di misure e rapporto qualità prezzo. Questo ne fa uno dei suoi punti di forza così come la possibilità di scegliere i differenti modelli che possono andare dalla versione base 2 velocità alla versione con telecomando 3 velocità o alla versione con telecomando e la possibilità di comunicazione tra i vari apparecchi wireless. Infatti questo è un sistema push and pull e quindi è preferibile installarlo in un foro di solo 10 cm e metterlo in comunicazione con altri apparecchi all'installati in altre istanze.